Potrebbe presto lasciare a Reggio Calabria il procuratore Federico Caffiero de Rao. La notizia del pensionamento dell'attuale capo dell'ufficio requirente di Napoli, Giovanni Colangelo, apre ufficialmente la corsa alla successione per una delle poltrone più ambita nel mondo giudiziario. Caffiero vorrebbe tornare nella sua Napoli, dove è trascorso tanti anni a combattere il clan dei Casalesi, di fatto azzerandolo, ma sulla sua strada troverà un concorrente assai agguerrito, Giovanni Melillo, attuale capo di gabinetto del ministro della giustizia Andrea Orlando. Una competizione fra titani che sta creando non pochi grattacapi al Consiglio Superiore della Magistratura, chiamato a decidere la prossima guida della Procura della Repubblica di Napoli. Già da tempo era noto che l'attuale inquilino del sesto piano del cedere avesse presentato domanda per tornare in Campania, ma il tiremolla del governo sembrava dilatare di parecchio i tempi per la definizione del limite d'età pensionabile. Ora la decisione di fissarlo a 70 anni, con proroga a 72 solo per i magistrati di Cassazione. Da qui l'addio di Colangelo. Servirà ancora qualche settimana ai giudici di Palazzo dei Marescialli per definire l'iter che porterà alla nomina del procuratore di Napoli. E nonostante la legittima aspirazione di Caffiero De Rao di tornare nella sua città natale dove ha lasciato famiglie affetti, a Reggio Calabria sono in tantissimi a sperare che le cose vadano diversamente. Una soppartenza in questo momento storico, infatti, rappresenterebbe un serio problema per un ufficio requirente che sta riscrivendo la storia degli ultimi 40 anni di Reggio e della Calabria. Consolato Minniti per la CNews24.